Stai dormendo? Un pochino Prova a chiudere gli occhi e ci riuscire Sembra incredibile ma la storia è tratta da un romanzo di Harry James anche se la vicenda ha tutte le caratteristiche dell'oggi Non sono canzoni per bambini Maisie ha appena 7 anni e figlia di una rock star arrabbiata Julian Moore di un mercante d'arte, lo Steve Coogan di Filomena I genitori non vanno d'accordo e Maisie assiste a continui litigi La bambina, dolcissima e attonita e impietrita davanti a un gioco al massacro che si consuma giorno per giorno finché i genitori non si separano Per un complicato sistema di ripicche il papà inizia una storia con una giovane babysitter e la mamma con un altrettanto giovane barista e mentre i veri genitori si disinteressano sempre più di Maisie i nuovi partner paradossalmente si affezionano alla bambina e riescono a fare breccia nel suo cuore dandole l'unica cosa che chiede attenzione e amore Sei una stalker? Cosa ti prenderai la prossima volta? Non ve la meritate Quel che sapeva Maisie si muove sulla scia di film come Kramer contro Kramer ma non si limita a raccontare un divorzio, è qualcosa di più è un film ad altezza di bambino tutta la vicenda è raccontata con gli occhi della protagonista la brava onata April i personaggi sono mostrati attraverso l'interazione con lei Quel che sapeva Maisie non è un film in cui si piange semmai si sorride per la spontaneità della protagonista e per le debolezze della natura umana ma si riflette anche sull'incapacità di alcuni di diventare adulti e assumersi le proprie responsabilità di genitori Papà non verrà più a prenderti, non vorrò a prenderti solo io capito? Mi stai bene? Sta bene, sono solo il padre Da questo punto di vista spicca nel casta la sempre efficace Julian Moore che nel ruolo di una mamma rocker e nevrotica restituisce al suo personaggio rabbia ma anche profonda fragilità ma alla fine la vera protagonista è lei, Maisie in una New York frenetica e scintillante riesce in un'impresa titanica eliminare i rumori di fondo e far sentire la sua voce E allora ci piace questa Maisie protagonista di un film non da bambini ma decisamente dalla parte dei bambini adesso parliamo di un grande attore Robert De Niro protagonista di film indimenticabili come Taxi Driver, 900, Il padrino il suo nuovo film in cui recita insieme a Diane Keaton e Susan Sarandon si intitola The Big Wedding e racconta appunto i preparativi per un grande matrimonio preparativi fatti di gioia, concitazione ma anche di qualche imprevisto Fingeremo per un paio di giorni, che problema c'è? E siete così sicuri che lei ci cascherà? C'era una volta Robert De Niro l'attore più ricercato di Hollywood che abbiamo conosciuto in film di rango come Il padrino e Toro scatenato ma che da qualche anno ha scelto un terreno completamente diverso Lo so che i tuoi genitori adottivi, Don e Ellie, non sono cattolici In Big Wedding, in commedia che racconta quello che ruota intorno a un atteso matrimonio De Niro è uno scultore divorziato da Diane Keaton a una nuova compagna, Susan Sarandon De Niro e la Keaton hanno tre figli che la Sarandon ha tirato su il più piccolo, adottivo e sta per sposarsi con la bella Amanda Sanfried Peccato che per sua madre, che viene da un paese dell'America Latina all'apparenza molto tradizionale la situazione della famiglia che ha tirato su il ragazzo sia davvero difficile da digerire e a questo punto, per amore del giovane sposo, non resta altro che fingere con conseguenze devastate Io prendo un filo migliore Non credo proprio Ogni matrimonio è accompagnato da tensione e stress Ognuno vuole pianificare tutto perfettamente fare tutto bene e rendere tutti contenti ma in questo film è particolarmente vero Come, signore? Patrimone che un po' va a stare Il cast è di quelli di rilievo, persino il ruolo minore del sacerdote interpretato da un simpaticissimo Robin Williams eppure qualcosa non funziona e se la saranno le Diane Keaton fanno il loro dovere ad essere in imbarazzo in più di un momento è proprio De Niro che negli ultimi anni sembra aver abbandonato il grande cinema a favore di pellicole a volte dimenticabili ma sempre ben retribuite D'altro canto vociferano i maligni con sei figli, tre mogli e due nipoti di entrate ogni mese ne servono Forse è il caso anche di questo film anche se c'è da dire che chiunque abbia vissuto l'emozione del grande giorno non potrà almeno in parte non riconoscersi con una raccomandazione però Ehi! Siamo una famiglia? Ma una cosa è certa non vorresti che tutto questo succedesse a casa tua se tuo figlio o tua figlia si stanno per sposare non fare quello che fanno i griffi Qualcuno mi può dare per favore un altro cacciotti in faccia? E allora aspettiamo Robert De Niro alla prossima prova Cari amiche e cari amici se volete questa sera alle 22.40 vi aspetto con Effetto Notte in rotocalco di informazione cinematografica di TV2000 incontreremo Raul Bova che ci parlerà del suo cinema ma anche del suo impegno nel sociale Il post torna lunedì sempre al termine di TG2000 Arrivederci Grazie